Ciao a tutti e ben ritrovati di nuovo nel mio canale. Allora, come avete letto dal titolo di questo video, questo video è dedicato a dei ringraziamenti. Prima di tutto volevo ringraziare alle tante persone che si stanno iscrivendo al mio canale e vi esorto per chi ancora non l'ha fatto di continuare a iscriversi. Ma soprattutto volevo ringraziare alle persone che stanno supportando questo canale. Prima di tutto volevo ringraziare delle persone che mi hanno contattato in privato e una persona mi ha regalato un set che è davvero incredibile. Più avanti avrò modo di poterlo portare sul canale. Lo proverò prima in privato che così magari nel video posso dare più informazioni dettagliate. E un'altra persona mi ha contattato su Instagram che mi ha regalato un rasoio che anche questo è particolare. Quindi vi ringrazio davvero di cuore e grazie anche alle persone che stanno usando il link di affiliazione di Rasoi Goodfellas questo sono uno dei tanti modi che state dimostrando di supportare il canale e che magari state apprezzando i contenuti. Sicuramente cercherò di migliorare quanto più i contenuti ma soprattutto volevo dare alcune informazioni utili. Tanti me l'hanno chiesto. Non farò una lista di desideri dei prodotti che a me piacerebbe portare sul canale ma sarete voi a decidere, qualora lo vogliate, dei prodotti specifici da portare sul canale. Quindi mi potrete contattare direttamente in privato come hanno fatto queste persone così da poter dare più contenuto al mio canale. Poi volevo anche salutare a tutte le persone che sto avendo modo di conoscere nell'ultimo periodo che come me fanno dei contenuti sulla rasatura tradizionale che indipendentemente dai canali che ognuno ha dei contenuti che porta. La cosa bella è avere un rapporto amichevole e soprattutto scambiarsi opinioni che non fanno altro che migliorarci e soprattutto dare più contenuto anche nei video con i loro suggerimenti. Allora detto questo io vi lascio in descrizione tutte le altre informazioni per dare un supporto al canale e come sempre vi esorto anche di iscrivervi alle mie pagine social che in questo modo potrete contattarmi in privato. Io vi saluto e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!